Che senso ha la vita? Cerco di spiegarvelo. A tutti capita di pensare alla vita, no? Ma alla fine ci si ritrova sempre a pensare al proprio sogno. La mente inizia a viaggiare, iniziamo a chiederci se tutto questo pensare un giorno possa finalmente diventare realtà. Credo che l'aspetto più importante sia credere in se stessi. Io sono una ragazzina che fin da piccola ha un sogno nel cassetto. Farell'attrice. Ma sono sempre stata scoraggiata. Così ho deciso di iniziare a ballare. La danza classica mi liberava da tutte le sensazioni negative. Dopo otto anni però la mia voglia di recitare, di essere davanti a una telecamera. Era sempre lì. Così ho abbandonato la danza. Ho iniziato a recitare. Ed è in quel momento che ho capito che l'unico mezzo per realizzare il proprio sogno è il coraggio. Mi sono sentita finalmente soddisfatta di me stessa. Non bisogna mai scoraggiarsi. Bisogna sempre crederci. Io ho avuto coraggio. Ci sto credendo. E grazie a me continuerò a sognare.